E' il modo di fare degli italiani, perché tu vai in America, il modo di vestirsi, il modo di comportarsi, il sorriso, no, nemmeno tanto, è proprio un'unicità. Insomma siamo più eleganti in italiano. Certo, raccontavo un po' la sua vita, raccontavo io. Ma non è un sedutore, è un attore, insomma, per fare delle cose, non è un mestiere. Lo facevano loro come mestiere negli anni 70. Ma tu ti consideri un sedutore? Ma la seduzione fa parte di una persona che ti guarda in un modo, che si comporta in un certo modo, ma non è che... No, e ci sono quelli che non ne lasciano una, che comunque lo sguardo, che se poi non succede niente, per non perdere lo smalto e l'allenamento. Quello è il sedutore proprio che... No, 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 certo, succede. Proprio così, succede. Non lo farei mai, essere seduta e non abbandonata. Guarda, e guarda qua, che parola, che parola, che parola. Mamma mia, guardate che fiori di donna. Ma ragazzi, la stiamo scherzando, veramente, una volta c'è fai. No, voglio essere seduta.